un pallone di spampi no, 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 un pallone di spampi sono caduto giù questo ragazzi, farlo così per fermarmi a bere è andato il sangue? no e dov'è? no, non so dove era già, ma è così secondo me è già andato o se è intrappolato lì nella cascata ma non l'ho visto sotto secondo me è già andato avanti no, ma secondo me è andato guarda che non si vede ma non è indietro e basta guardare giù eh se è giù sotto grazie a tutti guarda che costate